Stiamo analizzando con l'avvocato Gina Lupo, consigliera di parità della provincia di Taranto, il fenomeno del bullismo attraverso un'analisi, per così dire, disaggregata dei soggetti protagonisti di questa realtà. Dopo aver esaminato la figura del bullo, ecco un'altra figura, quella della vittima, del soggetto passivo di questo rapporto. E anche in questo caso possiamo individuare, come abbiamo fatto per il bullo, bullo dominante, bullo gregario, possiamo individuare la vittima sottomessa e invece la vittima che provoca, la provocatrice. Perché la vittima sottomessa è il soggetto che ha una bassa autostima, è una ragazza molto insicuri, sono molto timidi, sono impacciati, sono ragazzi che non sono riusciti ad inserirsi nel gruppo. Chiunque insegna o qualunque genitore attento può dire che nella classe si forma il gruppo, il gruppo oscolo che detta magari le condizioni e le regole e poi invece coloro che sono rimasti esclusi. O semplicemente perché sono diversi, che non si uniformano alle regole della classe o del gruppo di amicizia. E poi invece c'è la vittima anche che provoca, e spesso qui è un soggetto maschile che provoca l'attenzione del bullo perché vuole la lite, vuole il diverbio, vuole l'offesa ed è un altro soggetto. Quindi al terzo posto, preannuncio la tua domanda, Luigi abbiamo detto, è la maggioranza silenziosa, sono coloro che guardano, guardano senza intervenire, che guardano il loro compagno maltrattato, ingiuriato, vessato e non intervengono. E questa è la cosa molto più grave perché come ho detto prima il bullo ha bisogno di una platea per sentirsi forte, è proprio la maggioranza silenziosa che deve essere oggetto dei nostri interventi dal punto di vista delle istituzioni.